Ciao cari amici, una riflessione, un po' di commenti da parte mia su ciò che accade in Transnistria in questo periodo. Noi abbiamo sentito dai nostri notiziari, anche sui nostri giornali, hanno scritto di questi attentati che sono stati in Transnistria a marzo, sono stati sparati i razzi contro il Ministero degli Interni, poi altri attentati sempre utilizzando i droni, poi più avanti a maggio è stato fermato anche un terrorista, un personaggio che è stato identificato, fermato, lui ha ammesso di essere stato ingaggiato da una persona che secondo lui proviene dai servizi segreti Moldave, qua bisogna poi approfondire anche questa cosa per far capire cosa sono, perché, cosa stanno facendo. Insomma la situazione è questa, Transnistria che si trova tra Moldavia e Ucraina, molto vicina ad Odessa, vicina a Nikolaev, dove ci sono comunque i combattimenti, dove i russi stanno lentamente spingendo verso il sud. L'intenzione dei russi a mio avviso è quello di prendere piano piano il più possibile territorio del sud Ucraina, loro ovviamente nell'ideale vorrebbero prendere Odessa, Ismail e isolare tutto il territorio ucraino a tutta l'uscita sul Mar Nero, perché Vladimir Putin vorrebbe Mar Nero e poi del resto dell'Ucraina io non credo che hanno grandi interessi, ma comunque lo si vedrà nel futuro. E ovviamente in questa fase la Transnistria rappresenta un elemento molto importante strategico russo, perché in Transnistria c'è distanza quattordicesima armata russa, quattordicesima armata ufficialmente sono 2.500 persone, sono molto di più in realtà, sono sicuro che arrivano a 30-40 mila, è un enorme contingente militare, sono tanti basi, ci sono basi segrete, ci sono basi miste, dove sono strutture magari che appartengono all'esercito russo, ma all'interno il servizio svolgono i militari dell'esercito transnistriano. Questo interscambio tra Transnistria e Russia a livello militare esiste da sempre, da quando Transnistria è nata, nel 92, e fa parte di una normalità, ovvero per i transnistriani è normale far parte anche dell'esercito russo, far servizio militare nell'esercito russo, loro possono magari fare servizio obbligatorio nell'esercito transnistriano, poi passare al servizio a contratto nell'esercito russo, poi di nuovo passare nell'esercito transnistriano per ricoprire qualche carica, soprattutto quando si tratta di ufficiali, di altri ufficiali, quando devono ricoprire le cariche amministrative importanti a livello militare, funziona così, dall'esercito russo trasferiscono degli ufficiali competenti e le mettono a ricoprire varie cariche nell'esercito transnistriano. Quindi questo intercambio dei sistemi c'è, così anche come la gestione degli armamenti, delle basi, delle munizioni, della tecnica, è presso poco tutto uguale, tutto simile, se arriva un nuovo armamento nell'esercito russo viene immediatamente condiviso con l'esercito transnistriano, i specialisti transnistriani fanno gli stessi corsi di aggiornamento con specialisti dell'esercito russo. Quindi si tratta di una repubblica fortemente armata, c'è un grande contingente militare e poi ci sono questi 150 missili nucleari dei quali ha parlato generale Lebed nel 92 e dei quali poi dopo non si è saputo niente perché le informazioni sono tenute segrete, nessuno dice niente, nessuno né conferma né smentisce questa notizia, però siccome sul territorio transnistriano ci sono parecchi basi segreti che sono proprio depositi di armi e munizioni, non è difficile immaginare che 150 missili ci possano tranquillamente stare da qualche parte, quindi è abbastanza reale questa cosa. Tra l'altro ci sono missili in stato attivo, come ha detto stesso Lebed, attivo vuol dire che sono pronti per lancio subito e anche questa è una cosa abbastanza preoccupante, insomma. E la Transnistria è un territorio che nel piano del Putin di riprendere quello che una volta era la Nuova Russia, ovvero il sud dell'Ucraina, Transnistria sicuramente sarà l'avamposto dei russi verso frontiera sud occidentale. Per questo per lui è molto importante ciò che succede lì, lui tiene sotto occhio tutta la situazione. Questo capiscono ovviamente anche i suoi avversari e per questo cercano di distabilizzare la situazione, di minare un po' la serenità e la pace e cercano anche di mettere in risalto magari qualche debolezza, qualche mancanza a livello di sicurezza del paese. Per questo gli attentati, per questo gli attentati così dimostrativi, cioè sono arrivati con la macchina, hanno sparato due colpi di razzi anticarro, razzi monouso anticarro contro l'ingresso del ministero della difesa, nessuno è morto, però insomma un piccolo danno è stato fatto ed è stato un atto dimostrativo soprattutto perché in questo modo si è dimostrato guardate se noi vogliamo noi possiamo colpirvi quando vogliamo. Poi ci sono stati altri attentati abbastanza importanti, ad esempio c'è un tentativo di attentato che per fortuna non è stato realizzato, è stato intercettato un drone, abbattuto un drone che portava due chili di esplosivo con tutto un sistema di attivazione radiocomandato e questo drone doveva avvicinarsi alla stazione radiofonica di una cittadina che si chiama Mayak, abbastanza strategica e si pensa che faceva parte di una strategia di aggressione da parte dell'Ucraina, quindi questo drone per fortuna è stato abbattuto, poi sulla frontiera sono stati potenziati le forze militari e pare che non c'è una grave minaccia, però ogni tanto adesso di recente un altro drone ha buttato due bombe a mano sul terreno, territorio di una base militare, una base non di grande rilevanza, si tratta di una delle basi più diffuse in Transnistria, ovvero lì è dislocata una divisione motorizzata di fanteria, nessuno è morto, sono stati danneggiati due veicoli che erano fuori dai garage ma danneggiati in maniera non importante, cambieranno le gomme, tutto andrà bene. Il problema è sempre questo intento che loro riescono a portare al termine è dimostrazione che noi ci siamo e possiamo colpirvi quando vogliamo, è un terrorismo classico, quindi adesso i servizi segreti transistriani con quei servizi segreti russi lavorano tra l'altro attenti negli ultimi anni, mentre i transistriani incolpano i russi per il fatto che i russi non condividevano con loro tutta l'informazione operativa, quindi c'è tutto anche all'interno, c'è tutta una situazione poco sana tra due servizi. E poi c'è il caso di questo terrorista che è stato arrestato dai servizi segreti transistriani, è un terrorista proveniente dalla Transistria, in realtà un criminale che è stato ingaggiato da, come dice lui, da un agente dei servizi segreti in Moldavi che è stato identificato dei transistriani, i transistriani sanno chi è e quella gente in pratica l'ha pagato per una serie di attentati contro le basi militari transistriani e contro un punto di arrullamento transistriano dell'esercito transistriano. Quindi questo personaggio è stato preso proprio con le mani in sacco, lui aveva le armi, gli esplosivi, aveva le pianificazioni in una specie di quaderno, lui ha disegnato vari piani di vari luoghi dove voleva agire, insomma. E cosa dicono i transistriani? I transistriani dicono che sicuramente non è negli interessi del governo Moldavo di organizzare queste cose, non è una linea del governo Moldavo di provocare le tensioni in Transnistria, perché in realtà al governo di Maya Sandu oggi non è per niente comodo una transistria agitata, una transistria sempre più propensa alla guerra. Maya Sandu ha affermato diversamente, Maya Sandu è il presidente della Moldavia, ha affermato diversamente, diverse volte che vorrebbe, insomma, che la situazione si calmi, che farà di tutto per mantenere un equilibrio e così via. Quello che però dicono i servizi gretti transistriani è che in Moldavia ci sono gli interessi esterni, e quindi lavorano i servizi di altri paesi che sono radicati anche in vari livelli dei servizi segreti moldavi e le usano come una forza privata, come una struttura privata, indipendentemente dalle decisioni del governo Moldavo. Quindi in pratica si può immaginare che un servizio segreto di un paese occidentale, che possono essere Stati Uniti d'America ad esempio, o di un altro paese più vicino, magari non lo so, di Romania, oppure Polonia, o stessa Ucraina, interferiscono su vari programmi di lavoro dei servizi segreti moldavi, hanno il contatto con gli agenti operativi e li usano per propri interessi. Questa è una cosa reale che può accadere, che può succedere e nel passato si è già verificata. Quindi in Transnistria oggi c'è questa tensione che è molto probabilmente preparata, organizzata da servizi occidentali attraverso servizi moldavi che ingaggiano direttamente sul posto le persone che fanno parte o di criminalità organizzata o di vari gruppi sovversivi degli estremisti e cercano di preparare degli attentati, il senso è creare l'attenzione in un paese che è in realtà una polveriera, perché se in Transnistria dovesse esplodere la guerra contro la Moldavia noi avremo un altro conflitto, un ulteriore conflitto dove ovviamente anche la Russia dovrà entrare immediatamente e per cui la situazione dei russi un po' strategica sarà un po' più complicata perché anziché avere un conflitto avranno due conflitti più o meno nella stessa area e ovviamente anche da parte della comunità internazionale sarà molto più facile condannare certe azioni e la Russia sarà sotto un'attenzione ancora più rigida da parte dell'Occidente, ovviamente anche per la Nato sarà molto più facile ad esempio di entrare proprio nella Moldavia, tanto Moldavia già collabora con la Nato, è già un paese che ha de facto un rapporto avviato con la Nato, però è molto probabile che la Nato dirà senti Moldavia sai cosa? Mandiamo da te i nostri militari, ti diamo un appoggio militare strategico perché la tua sicurezza è minacciata dalla Transnistria dai russi, questo può accadere, può succedere, quindi cari amici la situazione della Transnistria è questa, grazie per essere stati qui con me, iscrivetevi ai miei canali Facebook, Instagram, YouTube, su YouTube mettete il campanellino così vi arriveranno le notifiche quando io carico nuove video e se avete domande, riflessioni, condividetele nei vostri commenti, io sempre le lego con attenzione, vi auguro ogni bene e vi mando un forte abbraccio, a presto!